Andate alla palestra, Raffaele 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 diceva dalla corsa Raffaele diceva, ma andate alla palestra di quagliune Raffaele quagliune si è divisa a chiamare Te la faccio? Te la faccio? Chi li scappà? Chi li scappà? Raffaele chi li scappà? Andate alla palestra, c'è pure la rete Raffaele Raffaele diceva, che si è un po' di te E' in unione, cred Hai mai ce a parlato la la lua Bu, la noi Non stru, non ho rumore di te dupi Raffaele, in cinga, sta a madina, ci non si pate azi o togurto Hai Fammi dire Raffaele che si può Raffaele che si può essere morto Io voglio delle morto Vabbè Allora tu non mi chiedi Tu fai dicendo che ti vanno a casa qua E mi fatti i numeri E i numeri Allora C'è Gesù Cristo Anche Wara Io voglio dire su alla continua i ma tu c'è la taglia su, voglio, voglio, la carrozzotta, ma che non vuoi tutto Stiamo a sé, forse non siete presenti, allora vuoi dire una cosa a fare è giudato la palestra, ha giudato la durita, questa è una vicina, la macchina è troppo che trafanniamo la faccia di questo, e trunca, e trunca, e trunca, e trunca, è una cosa voglio stare per fare, voglio stare per fare, voglio stare per fare ma alla fine mi è spasticato e giudato la macchina, c'era lì in coscia, se giudato se ci sono dei figli, cioè ci ritrovi, se hai fatto quello è brutto ci sono detto ma dove ti viense a stare, ma dove ti viense a stare, la palestra è a stare da chè la buchiacca, e vieni, vai mettere poi la palestra ci sono detto ma dove ti viense a stare, c'è la gula a mano quindi mi è risposta che la cerata la corsa è uscito fuori, è passato la macchina e la meravigliata sotto e morta, ora lo ha già cizzito e li hai la regola? mi hai la cerata la corsa Scusa ma tu facciamo la parescia o facciamo la parescia? E facciamo? Facciamo la parescia o facciamo la parescia? Mi dà il cinto che non c'è una mette in macchina del truco che è Ma perché non c'è scritto che non si può mette in macchina del truco che è? A me non è una capo ragazza, io ci parlo a due l'affogato Io la cussolo e la capo ragazza sono usciti E poi c'è gioco tanto tanto Ma qua c'è un gioco d'alzardo Gioco d'alzardo di me c'è un formato Gioco d'alzardo è quando vince e quando vede Ti pare che ce le chiede una parescia Ma non è che vince, non è che non si trunzi Ma questo è un pinto 50 Bravo, è un lavoro Ma questo non si ricorda di qua solo E questo non si mette, non lo so di E a me non mi puro, ma io pure la mia Eh però quando io ti metti da casa aperta non c'è sicuro l'indirizzo Non è che la casa aperta Chiudete? Lo scherzo è che c'è questo l'indirizzo in casa Quando ce ne guarda Si era lì Si era lì Si era lì Si era lì Ma io non c'è sicuro Si è meglio Poi è un'attima notte Quando ci vuoi processi Io ti spieghi Ma io Non c'è sicuro Ma io non c'è scritto A nessuna parte Ma io una cosa faccio Una cosa faccio Che ho sottoscritto Ho sottoscritto Ho sottoscritto Ho sottoscritto Ho sottoscritto Maestro Giovanna Fiorilla Al finale Ho comune A chi le guarda fatte In mente Un comune I sacchi miglia C'è 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 80 mila Li Allora E' però 40 D'interno dovuto Non è vero? Ma a te Ma a te Ponte 40 Ponte 50 allora c'è una cosa no 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 signor sono 50.000 le metti di sacca e c'è dalla ranna allora io quando c'è fatto il dottor Vermiglia che c'era di 82.000 le metti di sacca dalla palestra ci posso mettere caroni è esagerato c'è fiorito però non c'è vicina la cosa io l'ignoranza poi c'è la sospettiva poi c'è la sospettiva poi c'è la sospettiva e ci parla l'assessore ma se non te le spasticasse ma io metterò bocchino ma stava adesso l'umano ma la sposa ma l'abbia ma poi c'è vicina la cosa lui poi c'è la sospettiva e ci parla l'assessore e poi sono 4 anni che tu compavano chi è che sono 4 anni tu ma io ti ho ricevuto amico Fritz a dove si ho ricevuto fammi amico che dicevo e ora mi porca presa se ti piacesse facciamo come la tavola facciamo come la tavola ma te così c'è lì e ora a te facciamo la tavola non c'è l'altra cosa c'è l'altra cosa c'è l'altra facciamo ma che hai ricevuto perché te hai ricevuto fritz non c'è l'altra che ricevuto perché vuoi portare a tessi dicevo perché si portano a tessi dicevo ma tu sai che se tu vede la ricevuta che sono brutta ma sono brutta io per l'ultima mille o di po' sono catti 10 miliardi che li portano l'ultima bolletta di tene c'è un saccatato perché tu che cazzo ne sai e ci sono fumo qua di 11.500 c'è un saccatato dice immaginato un po' che è non vuole essere senza immaginato un po' che è il capo mio non mi ha mandato se mi ha mandato se ha culo ma che cazzo ma che cazzo non sa vita della vita l'acqua calda mi ha dato e chi si sono volati ci sa c'è una cosa che ho messo ci vanno fiorita 35 anni fa e va a fare un po' senza ne scarpi e niente e va a fare un po' puoi pesciare fuori e nessuno non si ha tentare che cazzo via d' ma come mi fai? come mi fai? mi fai perché mi chiede solo a me ok? voglio dire che cosa ti fai? l'avvocato che ti fai? eh l'avvocato, l'avvocato va a trovare questo papà ci ha detto l'avvocato io papà hai ragione ci ha detto l'avvocato, infatti io papà non c'è questa problematica ma si vince si vince, ci ha detto l'avvocato e gli ha detto il buono con lui non c'è più ci viste riuscite, no? ma anche io ma è la stessa cosa io e tu non c'è ma non funziona io ti fai l'avvocato che cazzo l'avvocato è buono a cui succede lì dite ma maestro ma che volete fare? volete difendere la sole? ma difendere la sole è meglio se si se si 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 ma non c'è poveri mi ha ragione o non c'è ma non c'è ma non c'è la sua ma non c'è 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 voglio una cosa io ho prima che mi piace la corsa ma tu puoi direi ma non c'è ma non c'è ma che cazzo ma non c'è l'uomo c'è e il questo ma non c'è bella scimmia, è fatta luce, è fatta pure la soluzione che aveva accenso perché la roba è la colpa che mi sono stati passati diciamo che io voglio una se stavo curriamo, io voglio una vorrei nascita fuori anche un'altra volta ma non si sa, perché effettivamente si voglia... ma io voglio una se stavo curriamo, ma io non c'è niente e tu che ce l'ha dato la cosa io ce l'ho lasciato semplicemente fuori e ci pigliate la mazza dentro la casa e finita e non c'è niente di rispetto 10 pigliate la mazza, ma io così come me la dici ma tu perché pigliate la mazza ma quel cazzo non lo fai perché ci pigliate la mazza che porca, una mazza, io la pozza, io non leggi potessi buttare da me solo e lei fa quale dice? quale dice? amica Fritz, come essere Giovanna Fiorillo come cintura negra e autorizzata dalla legge a portare il quartiere per questo tipo e io posso farlo una e non può fare niente perché è legittimamente di Fritz un po' per questo che non c'è 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 e per questo noi porremmo la paletta e ci troviamo la paletta chiedono che cazzo vuoi tu? il tabacco, prima il tabacco, poi il tabacco ci pulite i delfighi, la cellula, che cazzo infatti voi no, ma voglio una cosa di beneficenza l'abbiamo fatta anche con il maestro Dori, il maestro Giù il maestro Dori, il maestro Dori, il maestro Dori, tu si vuoi fare queste cose devi fare la casa sola devi fare fuori, devi salvare i pisci poi c'è quanto riguarda i pisci ci ha scritto, signorina, signorina, signorina ci ha scritto, signorina ovesci non c'è sempre una risposta, signorina ma non c'è il pesce, ma non c'è una cosa di le vaticci ma non c'è il mio hotel poi c'è una curiosità, c'è la presa è che il pescatore è più in rezza che ha messo questi pesci e lui diceva, ma non c'è il pescatore ma non c'è il mio pescatore, che ha messo i pisci e lui diceva, ma non c'è il mio pescatore c'è una mia mar Reality ma no, no ma che c'è da qua? così rispisterà vada, qu'è uno lì ma non c'è il pesce che è nessun pesce e lo tesca allora che lo pescatore è non c'è la piccola c'è la roba fatti che il nome del mio non è non pesce e ci ritte no, perchè si può uscirlo infatti no ne sono pesce ma non lo és è troppo e il cazzo nasace perché non so pisci nel figlio, non so pisci, non so pisci, non so pisci, no senza qua, se ho pisci non so pisci, eh, non so pisci, se c'è ne chi si è, è pesce o non è pesce, non so pisci, è pesce, vuole una palestra senza nio, se c'è ne faccio a chi appare un bello pesce, vado a prendere un figlio, e vedo un pezzo e uno, c'è Gesù Cristo mannato, e qua, qua, qua ci facevamo a scrivere beneficenza, il maestro Giovanni Fiorelli di Dauci, non fa bene, Piaccia alla donna, perché io non so più, ma te ma che poi si sente sempre un cuore qua sotto un cancro un cancro comunque un delfile non è pesce come non è pesce? ma cominci pure tu non è pesce è mammifera è questo mammifera è la mia mammifera come al baleno ecco ma è perché al baleno che è addossato l'aria al baleno è tipo una bruzza è tipo una bruzza non è ragione ma perché tu te l'hai mai mangiato? non te l'hai mangiato le vie e l'hai mangiato le vie no, hai scritto ciao ma non io vicenzino forato è normale tu donna paladuce tu donna paladuce tu vieni capi a te una coppia in un scenario adesso, per averla passato. alla poste facciate dividendo l' self vida mi pagava una cosa che mi fa was прод�, non è un video non ero suka Barbara tra tutt'altro va più c'era' qui DVD quando raggiunge ho la pace faccio le artiche padeva descansare guardate i stessi vedssi ora ma io con un agosto, uno e tre e quattro, mi chiamerà la palestra che fai mi chiamerà la palestra? che ci fai mi chiamerà la palestra? ieri sera, chi c'è venuto? ma che cosa è venuto qua? un fusce ah no, poi ci stanno i fantasmi ci stanno i misce, non me lo dico non si ha detto è stato molto venuto, sai ah, adesso è arrivato, è fatto come voi dica, che c'è trovato, capisci? è fatto come le altre e dite al signore di pulizia che la prossima volta che c'è l'anno su marino per te non vuole farlo a me a signore di pulizia e tu a solo c'è la signore di pulizia con tutto c'è una persona degnata il massimo rispetto e della massima educazione è lasciata bene poi una cosa, guarda nella fine funghiere ma, in un cesso è chiamato e cavallato mi riuscì ma se tu che ci passano a me io 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 sei ancora allora, dai grazie dei mostri dai ah, oh, che è che è marrone ma io mi piace per i cazzi dei mostri oh, salutè padre si prende la scossa qua sotto ma perché male ho fatto con il camminato è il tuo se non lo hai non lo hai non lo hai che fa sul video? spuffo, che spuffo? ma c'è una mamma che stena che stessi se vado a pompa da dentro non lo hai che lo ho creaturo ma chi dà lì che cosa è che lo ho creaturo? io c'è sceso qui si andava a zocco così si andava a zocco così e allora quando passava l'amica dopo te vanno con questa qui c'è sceso qui ma tu capite niente ma che è questa sua io c'è sceso qui io c'è sceso qui ma poi se c'è lasciato un mare il lente quando mi ha fatto dormire la volta scorsa un momento che ha scelto il foglio mi ha appiccicato un piede mi ha appiccato un giudicato quando tu hai accaduto i lenti li avevano visto un po' buoso e mi ricordo che io mi ha appiccicato ma aveva sempre il lente ma quando aveva questo lente scusa che siamo non sui amici hai chiesto e che la donna è vittuato è vittuato o no ma non è la signora che era venuta più creatura diceva che non ci sia non ci sia a stavasse nel luogo e la cultura non è venuta più a fare la distinzione come si chiamano? come si chiamano? come si chiamano? rinz rinz e non ha solo rinz ehi capito buco palla palla rinz ehi fatica tutto qui ma buco ma sai ma che sei su un anno vai buon marco se ho scarpato abbastanza